se hai un video che non è compatibile per uno dei tuoi dispositivi e quindi lo vuoi convertire per appunto renderlo compatibile o semplicemente vuoi eliminare delle scene da questo video o lo vuoi comprimere senza perdere in qualità in modo da ridurne la dimensione uno dei software migliori che ti consente di fare questo è Winix HD Video Converter che è un programma completo per la conversione dei video ma anche altre funzionalità e che grazie ad una promo del produttore accessibile a questa pagina di cui ho messo il link nella descrizione di questo video è possibile ottenerlo gratis quindi è possibile avere una licenza gratis per usare Winix HD Video Converter in modo da poter poi gestire e convertire tutti i video che si hanno in casa che si hanno sul computer Winix HD Video Converter Deluxe è un programma specifico per la conversione dei video con un'interfaccia molto semplice ma ricco di funzionalità che consentono appunto di convertire un video da un formato all'altro ma anche di fare anche altre cose si possono ad esempio comprimere i video per ridurne la dimensione fino al 90% senza perdere in qualità supporta la maggior parte dei formati sia in ingresso che in uscita e come dicevo oltre ad essere un convertitore consente anche per esempio di tagliare un video o eliminare le scene che si vogliono rimuovere appunto da un filmato e è anche molto veloce nella conversione dei video perché supporta l'acceleratore hardware delle schede video sia di Intel, di Nvidia che di AMD utilizzarlo è davvero molto semplice quindi quello che bisogna fare è innanzitutto caricare il video quindi basta cliccare sul pulsante più video e poi selezionare il video che si vuole convertire nel mio caso per esempio prendo un filmato che ho realizzato un iPhone nel formato MOV e lo voglio convertire nel formato MP4 che diciamo è supportato da quasi tutti i dispositivi in circolazione quindi una volta caricato il video verrà proposta questa finestra da cui è possibile scegliere appunto il formato di destinazione quindi si può andare in General Profiles e qui selezionare per esempio il formato appunto finale che si vuole ottenere è già per esempio consigliato l'MPEG 4 e si può scegliere tra una conversione veloce quindi ci metterà meno tempo per fare la conversione ma la qualità finale sarà inferiore a quella che si potrà ottenere invece selezionando la modalità lenta ovvero con più tempo per portare a termine la conversione ma con una qualità finale del video migliore quindi si può scegliere uno di questi profili oppure selezionare un profilo specifico per il dispositivo sul quale il video dovrà essere riprodotto e ci sono per esempio profili per i dispositivi Apple per i tablet Android per i smartphone Android per dispositivi Microsoft Sony e così via quindi ci sono anche i formati per la pubblicazione sul web quindi c'è il profilo per convertire il video in un formato per YouTube per Facebook per Vimeo e quindi ci sono formati per accontentare qualsiasi tipologia di utilizzo ora nel mio caso io mi limiterò ad utilizzare il formato MPEG 4 video che è quello che mi serve perché questo formato come dicevo è supportato dalla maggior parte dei dispositivi quindi faccio ok e quindi sono pronto per la conversione se però vuoi andare a modificare il mio video posso cliccare sulla ruota rendata e qui posso andare poi ad impostare manualmente tutta una serie di parametri come il codec da utilizzare le proporzioni il framerate quindi posso modificare il framerate posso modificare la risoluzione posso scegliere il codec audio quindi comunque se voglio una conversione veloce posso utilizzare tutte le impostazioni predefinite e quindi non ho nessun problema quindi ottengo il risultato in pochi minuti se invece voglio smalettare un po' tra le opzioni posso andare a modificare qualsiasi parametro del video della conversione poi posso per esempio da qui dalla finestra da questa finestra principale posso anche controllare le caratteristiche del mio video quindi alla risoluzione del video la tipologia di audio se sono presenti i sottotitoli ed eventualmente anche rinominare il filmato se c'è qualcosa che non va nel video quindi che io voglio eliminare perché magari ci sono delle scene più posso cliccare su qui sul pulsante editare e da qui posso andare a modificare il volume eventualmente aggiungere un sottotitolo o modificarlo ritagliare delle porzioni del video o anche fare il trim ovvero tagliare il video stesso quindi si possono fare una serie di modifici quindi non solo conversione ma io prima di fare la conversione posso anche modificare leggermente il mio video prima di iniziare la conversione qui nella parte in basso in cartella di destinazione basta cliccare sul pulsante sfoglia per andare a selezionare dove salvare il video convertito per semplicità lo vado a mettere nella cartella video e poi posso avviare la conversione cliccando sul pulsante run a questo punto bisogna attendere che la conversione venga completata ora il tempo per effettuare la conversione non sarà tantissimo perché come dicevo win x hd video converter deluxe support l'accelerazione hardware delle più diffuse schede video e quindi mi consentirà di portare a termine la conversione in pochi tempo quindi una volta completata la conversione avremo il video nel formato desiderato con una dimensione molto inferiore rispetto a quella originale e con la stessa qualità è un'altra funzionalità che mi ero dimenticato di menzionare la possibilità di estrarre l'audio da un video per esempio se si ha un video musicale si può estrarre solo la traccia audio per poterla riprodurre per esempio con un lettore mp3 o quant'altro un programma quindi davvero utile facile da utilizzare e che approfittando di questa offerta che ripeto è accessibile andando sul link che ho messo nella descrizione di questo video si può avere appunto win x hd video converter deluxe gratuito